È stato calcolato che ogni anno nell'Unione Europea si producono più di 2,2 miliardi di tonnellate di rifiuti. Per promuovere la transizione verso un'economia circolare, in alternativa all'attuale modello economico lineare, l'Unione Europea si è impegnata ad aggiornare la legislazione sulla gestione dei rifiuti, richiamando gli Stati membri a promuovere e applicare piani d'azione per una nuova economia circolare, un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali per estendere il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Proprio l'economia circolare è stata al centro del dibattito che ha animato la sesta edizione dell'Ecoforum Abruzzo, promossa da Legambiente. Silvia Tauro, presidente di Legambiente Abruzzo, qual è la fotografia che Legambiente scatta all'Abruzzo? La fotografia che scattiamo è quella di una regione che sta affrontando un momento complesso, perché mentre ci sono ingenti fondi per l'economia circolare, tenendo conto del PNRR e della programmazione 2021-2027 dei fondi FESR, è importante però mantenere alta l'attenzione sulla governance di tutta la filiera territoriale, laddove questo è indispensabile perché l'Abruzzo faccia un definitivo salto di qualità. Quali sono le situazioni più complicate da risolvere sul fronte dell'economia circolare? In questo momento è importante riuscire a realizzare sul territorio l'impiantistica necessaria per chiudere la filiera quindi dei rifiuti all'interno della nostra regione e farne un vero pulcro della transizione ecologica, dove l'economia circolare oggi è un elemento fondamentale per raggiungere quelli che sono gli obiettivi non solo della transizione ecologica, ma in particolare della transizione energetica e dei principi di adattamento climatico. Al termine dell'evento, che si è svolto a Pescara presso l'auditorium Petruzzi, sono stati assegnati, come di consueto, i riconoscimenti ai comuni ricicloni. Donatella Pavone, direttrice di Legambiente Abruzzo, c'è una classifica dei comuni più ricicloni? Quali sono i dati in vostro possesso? Per quanto riguarda la raccolta, ci attestiamo con un risultato più o meno invariato rispetto all'anno precedente, che è del 64,2%. Per quanto riguarda le premiazioni, saranno divise per provincia e ogni provincia avrà i suoi comuni più virtuosi. Continuano a scendere comunque a livello abruzzese i comuni rifiuti free. Ci attestiamo quest'anno a 71 comuni, il che rappresenta il 23% del totale dei comuni. Tra i comuni, il comune più virtuoso continua ad essere Villa Santa Maria, mentre per quanto riguarda i capoluoghi Teramo, per la provincia, la provincia di Chieti.